Benvenuti a Tu per Tu, il viaggio introspettivo attraverso le parole dei miei ospiti. Lunga e diritta correva la strada, l'auto veloce correva. Questo è solo l'inizio di un famoso brano musicale del 1968 e descrive in toto i miei ospiti di oggi. Sono rispettivamente padre e figlia e per una fantastica coincidenza di cromosomi hanno una passione in comune che li lega e li vede peraltro fianco a fianco nella vita quotidiana. Si dice che la pressione di un genitore sia cosa nota rispetto ai propri figli e nella natura umana e ci identifica giocoforza nei rispettivi ruoli sociali e istituzionali. La pressione è quello stato d'animo che mantiene alto il livello di guardia nei confronti di tutto ciò che possa rappresentare un pericolo in generale. Tuttavia, il caso di oggi rappresenta una forma un po' bizzarra di come si possa vivere un rapporto tra padre e figlia. L'attenzione a livello mediatico per la passione che li accomuna divide le forme di pensiero in relazione al rischio che si corre costantemente. Sì, perché stiamo parlando di un rischio vero, reale, costante. Stiamo parlando di rally. Il rally è una disciplina sportiva automobilistica che li vede impegnati su strade pubbliche, sia asfaltate che sterrate, utilizzando vetture da competizioni derivanti da vari modelli stradali. Ma di tutto questo, naturalmente, ce ne parleranno loro, Francesco e Noemi. Benvenuti. Ciao. 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 Cominciamo da te, Francesco. Un'introduzione abbastanza importante. Stiamo parlando di un 42enne con la passione per i motori. Un padre di famiglia pieno di iniziative che ogni figlio barra figlia vorrebbe avere. Un uomo con un grande cuore che ha trasformato la propria passione in una straordinaria giostra, attrattiva. Cosa mi dice a riguardo? E cominciamo con questa introduzione perché il resto poi arriverà dopo. Ma ti dico che è una passione che c'è fin da bambino, poi ringraziando ho avuto fortuna e questa fortuna è di trovare mia moglie e da quale siamo andati avanti con questa passione e questa passione l'ho trasmessa a Noemi e anche a Martina. Quando hai la passione per i motori? Fin da bambino, fin da bambino. Vicino a casa mia c'era una pista di autocross di un team di locale di Rivarolo Canavese e c'erano queste macchine che scorrazzavano e io guardavo queste macchine scorrazzare e mi rivedevo seduto al posto di quel pilota. Andiamo un po' a retroso. Parliamo del 1995. Tu possiedi la tua prima auto. Ho la mia prima, un regalo di mio papà dei 18 anni, una prima Clio 16 valvole che ancora oggi io ho. E l'anno successivo cos'è successo, cos'è capitato? Stiamo parlando poi del 1996. Nasce Noemi. Bene. Nasce Noemi, è il mio primo genito, e cominciamo a scorrazzare per le strade con Noemi nel seggiorino. L'hai portata sempre con te, giusto? L'hai sempre coinvolta nelle tue iniziative? Mai abbandonata. Mai abbandonata e mai, è sempre cercato di portare insieme a noi, a vedere gare, a vedere giornate automobilistiche, tutto quello che riguarda i motori, tutto quello che riguarda la mia passione principale. Allo stato attuale delle cose, se dovessi identificarti come ruolo, non tanto come padre, tu saresti? Continua tu. Il suo manager. Il suo manager. Noemi, da poco, ciao, 22enne, è ereditato naturalmente da tuo padre e dalla tua famiglia in generale, perché so che anche tua moglie è addentrata nel team, giusto? Quindi è proprio una passione che nasce da piccola, quindi è ereditato il meglio da mamma e papà, si può dire. Lei è peraltro un membro attivo del vostro team e hai cominciato a correre un po' di anni fa. Hai comprato anche tu la tua prima auto e lì, in quel frangente, hai conosciuto il tuo fidanzato. Dico bene, è giusto che anche lui è un pilota da otto anni, otto, nove anni, giusto? Sì, lui fa la parte del navigatore, con un suo amico poi va a aiutare altre persone. Sì, l'ho conosciuto in questo mondo, l'ho conosciuto a casa mia. Per chi non lo sapesse, il navigatore è colui che... Che sta a fianco al pilota. Siede alla destra del pilota e quindi ha un incarico molto importante, giusto? Sì, dalla strada, dice appunto le note, dicendo dove andare. Cosa sono le note? Sarebbero le direttive, giusto? Esatto. Quelle parole che noi sentiamo nei vari filmati di YouTube, correggimi se sbaglio. Bravissimo. Quinta a destra, cinquanta a sinistra, spingi, molla, un po' sporca, giusto? Esatto, che sono le curve, le strade, esatto, che devono fare. La difficoltà della curva e la percorrenza della curva, se è più difficile, se è meno difficile, quanti metri si ha prima di affrontare la prossima curva. Quindi una pianificazione vera e propria del percorso, giusto? Sì, si va a provare. Voi corretti insieme qualche volta? Sì, Noemi ha cominciato a correre con me, ha appena fatto i 18 anni, ha fatto subito l'esame di teoria guida, ha preso la patente e ha fatto il corso per fare sia pilota che naviga. Lei può fare sia pilota che naviga. Entrambi, nel momento in cui vi sedete in macchina, da padre, che pensiero ti passa per la testa? Hai a fianco tua figlia. Quindi, ovviamente, è inutile discutere una grandissima responsabilità, però da padre, che pensiero ti passa per la testa? Ma, sono sincero, allora, non devi pensare troppo perché se pensi non fai la tua gara in tranquillità e non puoi metterti lì a pensare perché poi le curve comunque vengono una dietro l'altra. E' veloce, il sistema è veloce. Cerchi di essere responsabile, cerchi di non sbagliare e cerchi di ascoltare più possibile le sue direttive, perché comunque la fiducia che io devo dare a lei è molta, perché è molto importante quello che lei mi sta dicendo. Perché quello che mi sta dicendo è quello che in realtà io trovo, perché dietro una curva trovo il destra 3, trovo un destra 2, trovo un destra 1, trovo un tornante. Io non posso ricordare tutta la strada. Allora, ascoltando bene nel profondo le sue direttive e dandovi veramente fiducia, io riesco a essere sciolto, riesco a essere tranquillo. Hai detto una parola molto importante, fiducia, un rapporto di fiducia che naturalmente viene anche trasmesso, chiedo scusa, all'interno del nucleo familiare, giusto? Quando vi svestite dei vostri panni da pilota e ritornate a essere famiglia, che cosa cambia se qualcosa cambia all'interno del vostro rapporto? Noemi. Ma in realtà niente, perché c'è un rapporto anche d'amicizia. Essendo tutti molto giovani c'è un rapporto così molto... Io l'abitaccio perché dice che sono giovane. E pur sempre tuo padre, eh? Però fuori dalle vestite del rally, comunque abbiamo una vita molto avvicinata al rally, perché appunto abbiamo il team, mio fidanzato, comunque quando corre lui non corro io, comunque al contrario. Quindi c'è lavoro, ok, ma siamo molto in questo mondo. Quindi si può dire che vivete la vostra quotidianità a stretto contatto con i motori, quindi una famiglia basata sui motori, giusto? Ma sì, sì. Cosa mi racconti di tua moglie? Perché un uccilino mi ha detto che, correggimi se sbaglio, è addentrata all'interno di questo campo, è un... Correggimi, è un capomeccanico se non erro, perdonami, eh? Sì, lei gestisce tutto quello che... in pratica quando noi finiamo una prova speciale, la prima cosa è la telefonata a... Io dico il telefono subito a mamma, per tranquillizzarla, perché comunque c'è Noemi di fianco, ci sono io, ma c'è anche sua figlia. E giustamente per tranquillizzarla gli telefoniamo. E poi, diciamo, tutto quello che noi necessita, se c'è una gomma, se abbiamo avuto un problema, che problema abbiamo avuto, le pastiglie dei freni, le gomme, il cerchio, le testine, tutto quello che riguarda un'autovettura, quello che si può danneggiare in prova speciale, perché purtroppo c'è anche questo rischio di poter fare dei danni all'autovettura. E allora lei gestisce tutto questo sistema, in pratica tutte le persone che sono in assistenza, che ci stanno aspettando, si dividono e ognuno ha la sua mansione. Si parlava prima della potenza di fiducia che c'è tra voi due, quindi una sorta a volte di inversione dei ruoli, giusto? Gioco forse tu di avere fiducia di lei, quindi è lei che ti guida. L'unica volta che mi ascolta. Ovviamente questa è un'anteprima di Obiettivo News, qui a Tu per Tu, quindi... Cicchitaccia consente. Cosa mi dice a riguardo? È l'unica volta che mi ascolta. Ma sì... Qui viene fuori comunque un lato privato, che è importante far venire fuori, perché viene contestualizzato poi nel vostro... Nella vita privata. Nella vita privata io sono una persona un po' un carattere duro. Carattere duro e ringraziando, penso anche questo carattere un po' duro, e oggi ne raccolgo i frutti. E risultati. E sono veramente contento, soddisfatto e orgoglioso di quello che ho intorno, tutto. Adesso parliamo di un'iniziativa molto bella che avete creato, chiamasi Busano Motor Show. Descrivi un attimo questo tipo di grande iniziativa che a livello mediatico ha suscitato notevole interesse da parte delle autorità locali, innanzitutto, e di tutta la gente in generale. Quindi descrivi un attimo quando è cominciato, quando vi è venuta l'idea, quando è stata la prima edizione, che cosa fate e soprattutto perché lo fate. Allora, il Busano Motor Show nasce da un sogno, un sogno in un cassetto che è durato 15 anni, 15-17 anni. E il Busano Motor Show nasce da tutto questo gruppo di amici e sta passione proprio a 360 gradi, perché comunque c'è una passione a 360 gradi, del quale ho fatto una proposta a dei ragazzi, o anche della gente comunque che ha, noi abbiamo un socio che ha 74 anni nel nostro team. Navigato, esperienze. Abbiamo un socio di 74 anni e un altro socio di 64 anni e siamo inseriti a fare parte di questo team. È nata una bella amicizia, un bel rapporto. Loro hanno ascoltato la mia idea, gli è piaciuta e siamo riusciti a creare il Busano Motor Show. Nasce la parte burocratica, nasce la parte di parlare con il primo cittadino. Abbiamo parlato con il primo cittadino, titubante perché non conosceva... Che il vostro primo fan, peraltro. È una persona che subito non sapeva perché non conosceva questo sport, non conosceva proprio come si svolgeva, cose varie. Ci ha dato veramente una fiducia immensa. Io lo ringrazierò finché vivo perché grazie a lui siamo riusciti a creare quello che a me piaceva veramente fare. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Noemi, se io dovessi definire il Busano Motor Show, lo definirei con tre parole. Motori, buon cibo e tanta solidarietà. Adesso parlerò di una cosa, lo faccio a te perché lui si emoziona molto in queste cose. Ti chiedo gentilmente di spiegarmi che cos'è il Taxi Drift. Allora, il Taxi Drift è stato pensato da tutto il nostro team. Praticamente si organizza con una giornata che è stata il sabato pomeriggio. L'edizione passata. L'edizione, sì, di ottobre del 2017. 18. 18, scusatemi. Tanto gli anni corrono talmente veloci che a volte facciamo fatica pure a tenerli a conto. E praticamente varie persone con delle auto. Di solito noi non abbiamo delle preferenze. Ci sono queste persone che si offrono volontarie senza chiedere soldi su benzina. Sì, sì, assolutamente. Sono a conoscenza di queste cose. Noi non chiediamo assolutamente il costo dell'iscrizione del sabato pomeriggio. E queste persone fanno il taxi ai bambini del Regina Margherita. Sono venuti raccolti dei soldi dalle persone che volevano salire esterne con lo scarico di responsabilità per comunque essere tranquilli sia noi che il pilota. Il personale che collaboro con voi è comunque personale specializzato, autorizzato naturalmente da voi. E quindi comunque sia con tutti i crismi e i cariteri. Abbiamo dei piloti molto all'avanguardia. Abbiamo dei piloti molto all'avanguardia. Siamo sinceri, non prendiamo il primo che passa e dice faccio il taxi drift. Abbiamo delle persone qualificate che sanno quello che fanno e le prendiamo e mettiamo questi ragazzi, sia i ragazzi del Regina Margherita, del reparto oncologico, e poi abbiamo del pubblico che vuole salire in macchina. Quindi come si svolge la manifestazione nella fattispecie questo taxi drift? Che cosa fate nella fattispecie? Allora prendono e fanno l'iscrizione, fanno l'iscrizione, fanno lo scarico di responsabilità, vanno avanti, prendono a uno per uno, viene accompagnato vicino all'automobile, si fa accomodare in automobile come passeggero, si siede, si lega con le cinture, si mette in sicurezza. Tutta la procedura ovviamente, è normale. Casco, sicurezza, tutto quello che riguarda la sicurezza perché comunque è molto importante. Sì, ovvio. Molto importante la sicurezza. Poi si parte, si fa tre barra quattro giri nel circuito che noi abbiamo creato, che all'incirca sono tre chilometri e mezzo. Sono tre chilometri e mezzo di... Come viene fatto questo circuito? Ad andatura sostenuta? Zizzagando? Spieghami un po', sono curioso. Allora cerchiamo di essere, di fare veramente attenzione. Cerchiamo di fare veramente attenzione, perché comunque le persone che si portano sono persone che comunque non sono pronte a capire proprio 101% come... non è una persona che tutti i giorni fa questo. Allora cerchiamo di fare... ci conteniamo un po'. Secondo te come viene presa questa iniziativa a livello mediatico? Le persone come rispondono? Dalla fluenza che abbiamo avuto abbiamo trovato molto positivo il risultato, perché appunto l'associazione che avevamo con noi ha raccolto un bel grumoletto di soldi, una discreta somma, certo, ed è stato tutto donato al Regina Margherita. Questo sicuramente vi fa molto onore, perché una, tra virgolette, un fiore all'occhiello del Busan Motor Show è proprio la solidarietà, chiedo scusa, che fate a favore delle persone un po' più bisognose. Inoltre so che siete impegnati in altre azioni di solidarietà con un gruppo di Laini, se non erro, se non erro, e quindi ti dirò tanta, tanta, tanta roba. Verrebbe da chiedere di cosa stiamo parlando. Parliamo anche del buon cibo che viene realizzato durante queste manifestazioni. Quindi, chi partecipa? Cucina autoctona, le cascine dei paesi vicino, piuttosto che i conoscenti, i amici, una sorta di street food? No, noi abbiamo cercato di, per comunque sostenere tutto, l'unica persona non può fare tanto tutto, quello che stiamo facendo. Ci siamo affidati a una persona che comunque ha bussato, ha chiesto permesso, e gli abbiamo dato il permesso di entrare a far parte di questa famiglia. In punta di piedi, come si suol dire, giusto? Sì, è stata molto umile, è una persona che è un po', a livello caratterialmente è un po' chiusa, e ha bussato proprio a punta di piedi. Quando ha bussato l'abbiamo accolta e ci ha ringraziato, ancora ti dico, l'altro giorno solo leggevo un messaggio scritto da lei, solo una parola, grazie. e mi ha fatto molto contento perché questa signora ha il locale che ci ha sostenuto, si chiama Il Veliero, di Busano. È un locale della zona, certo, normale, certo che sia, assolutamente, sì. E a 300 metri da dove noi svolgiamo il Busano Motoshow, comunque abbiamo deciso, dice, ma se volete una mano io ci sono. E siccome l'idea è proprio, io le tiro fuori una dietro l'altra, non mi piace star fermo, ho detto, ma facciamo anche il reparto gastronomico, così almeno tutti i piloti, chi partecipa, tutte le persone che vogliono vedere, il pubblico, i piloti, il 118, i vigili del fuoco... Hanno la possibilità di rifocillarsi, certo che sì. Hanno la possibilità di prendere e scambiare un boccone anche con noi, perché comunque anche noi mangiamo... Perché anche questo fa aggregazione, giusto? Sì, sì. Noemi, ipotizziamo che io non abbia mai visto il Motoshow di Busano. Che tipo di mezzi ci sono? Ci sono ovviamente auto da rally, auto da drift, e abbiamo anche auto stradali. Inoltre, da due anni, se non tre, se non sbaglio, abbiamo anche dei trattori, che sono molto particolari, molto belli. Tipo? Sono dei trattori tractor pooling. Ci vorresti spiegare un attimo cosa sono questi tractor pooling? Meglio papà che spieghi papà. Allora, questi trattori sono dei trattori dragster, perché sono trattori con 3.000 cavalli. Da competizione, quindi, no? Da competizione. Nella mia pagina Facebook, chi vuole, lo può vedere. Può andare a curiosare, sicuramente. Lo può andare a curiosare. Può andare a curiosare. Sono dei trattori da 3.000 cavalli che sono fatti... Loro devono trainare una slitta. Adesso decifrare il peso della slitta, direi una cosa che non so. Comunque, questa slitta parte, in primis, con le ruote alla parte posteriore alzate, davanti con sta zavorra che tocca a terra, come uno slittino da neve. Man mano che va avanti, diventa la gravità, diventa sempre più elevata, perché queste ruote incominciano ad alzarsi, sparisce e fa diventare proprio uno slittino che tocca a terra, però con una massa molto elevata. E lì ci va personale preparato per questo tipo di mezzi? Sì, 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 sicuramente sì. Sì, sì, anche perché è comunque uno sport, prima di tutto, costosissimo. Dei trattori fantastici. Fai conto che una derivazione di un motore, di un camion, un 190-48 turbostar, il vecchio turbostar, da, lasciami dire, da 280 cavalli. Una potenza non indifferente. O da 480 cavalli, perché 48 si intende 480 cavalli. Sono tutti termini tecnici che non tutti capiscono, però quando parli di cavalli, ovviamente, gioco forza, il richiamo è d'obbligo, normale. Si parte da 480 cavalli, si arriva a 3.000, in pratica è un bel mezzo. Chi è che si occupa di selezionare tutti i collaboratori che avranno a che fare con voi? Perché ovviamente, visto che voi siete gli organizzatori, ci sarà una grande responsabilità di fondo, e nei confronti degli stessi collaboratori, e nei confronti della stessa comunità. Io propongo, io sono sincero, io sono uno curioso, grazie alla mia attività, prendo e gestisco la mia attività, e sono in giro molto, e guardo un po' tutto, osservo, sono un osservatore. Allora i miei ragazzi propongo, noi tutti i mercoledì sera facciamo riunioni con gli ragazzi del team, e in base a queste proposte poi decidiamo il farsi. Perché sei tu comunque il diretto responsabile di questo tipo di iniziativa, di questo tipo di raduno, giusto? Quando siamo, io dico sempre questa parola, i miei ragazzi vedono sempre che comunque tutti vengono da Franco, 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 perché io sono Franco per tutti. però quando si è un team, si è tutti. Allora i miei ragazzi, sì sì, si consultano con me, però io dico che quando si fa degli eventi, quando si fa qualsiasi manifestazione, una manifestazione del genere, comunque si è, essendo che nel team siamo i sei, ma non siamo solo i sei, siamo in cinquanta a lavorare. Vogliamo ricordare la cadenza del motor show? di questo motor show. Allora, una data presunta, una data presunta 2019, ne abbiamo già parlato con l'autorità, ne abbiamo già parlato col sindaco di Busano, e abbiamo già messo una data, 12, 13 e 14 aprile 2019. Perfetto. E' iniziata questa rassegna quando? Allora, sei, allora, noi abbiamo cominciato il primo evento. In che anno? 2017. E siamo arrivati alla quinta edizione. Perfetto. Quindi, motor show di Busano, solidarietà, tanto buon cibo e tanti, tanti motori. E a riguardo io vorrei chiudere questa nostra puntata con una frase che enfatizza un attimo la paura e la pressione per i motori e per le corse. Un giorno la paura bussò alla mia porta. Il coraggio andò ad aprire e non vide più nessuno. Per questa puntata è tutto. Vi richiamo la prossima settimana. Un grazie ai nostri ospiti. Ciao da Fabrizio Carbone. Buona serata. Buona serata. Buona serata.